Il Menea Day nel 2021 sarà un evento di statura internazionale, lo certifica la graduatoria degli appuntamenti dell'atletica leggera nel mondo stilata dalla IAF, la federazione internazionale. Esito del gran lavoro portato avanti da mesi dal gruppo sportivo Avis Barletta, società organizzatrice dell'evento e dal suo responsabile Eusebio Alieti, ostacolista e velocista con nove titoli nazionali in bacheca, che ha condiviso l'organizzazione con la sua collega e compagna di vita, Veronica Inglese. Il prossimo 12 settembre Barletta ricorderà il suo campione più grande nel 42esimo anniversario della data in cui a Città del Messico Menea corse il record del mondo sui 200 metri, battendo il suo idolo Tommy Smith con il tempo di 19,72 secondi. L'anno scorso l'evento fu purtroppo funestato dal furto della pista gommata alla vigilia a Bisceglie, con tanto di corsa contro il tempo per portare avanti comunque l'iniziativa sull'asfalto di Corso Vittorio Emanuele. Quest'anno l'imprevisto più grande si è chiamato invece Covid, ha ritardato i tempi decisionali, si è sommato alla burocrazia, ha fatto sì che il sigillo dell'albo pretorio comunale sulla manifestazione arrivasse solo a due mesi dalla stessa, con annesso sostegno finanziario da 3.000 euro. L'allestimento è però in corso da mesi e la novità principale di un intenso 12 settembre sarà la celebrazione di Menea, non solo attraverso la corsa ma anche con il salto dell'asta, ospitato dal rivellino del castello. Due in nome di grido già assicurati dall'organizzazione, si tratta di Roberta Bruni, primatista nazionale e olimpionica a Tokyo, e Robeilis Peinado, anche le olimpionica venezuelana e medaglia di bronzo ai mondiali, presenze che unite ad altre che aspettano conferme nei prossimi giorni, assicureranno anche l'attenzione mediatica del mondo dell'atletica leggera e visibilità su scala planetaria. Nel giorno in cui Pietro ha scritto la storia, si correrà ovviamente anche nel nome di Menea, con il trofeo piccolo Pietro che vedrà gli atleti della categoria esordienti sfidarsi in piazza Castello, su un tappeto simile a una pista, tutti di corsa come Menea, l'eroe dello sport che ha reso celebre barletta nel mondo. Grazie a tutti.